L'energia, come non l'avete mai vista, è lo slogan di Energy Festival dopo Arezzo e Siena, l'evento annuale di Estra sull'energia e le sue tante declinazioni è per due giorni a Prato, in Piazza Duomo, il 10 e 11 giugno. Sono 53 gli studenti di Extra RS con destinazione Spagna, Portogallo, Regno Unito, Belgio e Grecia. Il progetto di tirocini formativi di Estra, collegato al sistema Erasmus, riguarda 11 istituti superiori del centro Italia. Piena soddisfazione per l'attività di Centria Reti Gas, la società del gruppo Estra che si occupa della distribuzione del metano. Il 98% dei clienti si dichiara soddisfatto della fornitura del servizio. Continuano i cantieri di Estracom per l'installazione della banda ultralarga nell'area industriale di Montemurlo, nelle zone di Settimello e Fibiana a Calenzano.